Buongiorno a tutti, come sapete i giornalisti non sono presenti in sala, hanno inviato le domande, i due colleghi di Roma Radio e Roma TV ci aiuteranno a forgerle a mister Fonseca. E invece presente in sala l'inviato di Sky, Angelo Mangiante, a cui lasciamo la parola per l'inizio della conferenza. Buongiorno mister. Buongiorno. Si è parlato un po' poco sui ultimi giorni della partita di domani sera, la trasferta alla Spezia, eppure è una partita fondamentale, da dentro fuori per l'Europa. Sappiamo la volontà della proprietà e della società di voler giocare in Europa la prossima stagione. Le chiedo se i giocatori sono soprattutto motivati, concentrati per questi 90 minuti decisivi. Buongiorno. Io penso che sì. Abbiamo allenato bene questa settimana, una settimana più lunga. Mi sembra che i giocatori sono motivati. Penso che tutti qui abbiamo la consapevolezza che è importante vincere, è importante arrivare all'Europa per il prossimo anno. Per questo penso che siamo tutti concentrati e preparati per fare una buona partita domani. Seconda domanda è un po' più personale, perché questa è l'ultima conferenza stampa qui a Trigoria. Lei ha portato tante cose positive al calcio italiano. Abbiamo apprezzato tantissimo il suo stile, la sua capacità di comunicare, la sua non necessità di ricorrere a polemiche, alibi, cosa che spesso avviene nel calcio italiano. Insomma, è l'augurio che anche altri allenatori possano riprendere anche questo insegnamento che a noi ci ha colpito e la ringrazio anche a nome di Sky e di tanti colleghi che oggi non possono venire sempre per il discorso del Covid. E in questi due anni, appunto, che adesso si concludono, però le chiedo qual è il momento, se c'è un momento proprio bello, il più bello che lei si porterà via quando non sarà più l'allenatore della Roma. È difficile, è difficile dire un momento. Penso che lo più bello che ho creato qui è la relazione con le persone, con voi, con i tifosi, con le persone che hanno lavorato con me questi due anni. Penso che è lo più bello che posso dire, le relazioni sempre di grande rispetto, di grande onestità. Ovviamente, i risultati sono importanti, ma penso anche che queste questioni, questo relazionamento con le persone, questo rapporto con le persone sono molto importanti. E quello che io ho più bello è questo. I tifosi, voi, le persone che hanno lavorato con me questi due anni, è lo più bello che ho avuto qui. Buongiorno, mister. Domanda della Gazzetta dello Sport. Pensa che aver tolto la fascia a Dzeko lo abbia demotivato in campionato? A livello umano, cosa l'ha più delusa di quello che è successo a gennaio? No, penso che non ha influenziato il campionato. Lo più importante di questo a dire è che, come tutte le squadre hanno questo tipo di situazione, abbiamo avuto un rapporto per finire questo tipo di questioni, questi problemi. Penso che, per esempio, l'ultima partita di Dzeko ha dimostrato che abbiamo risolto come succede in tutte le squadre. Buongiorno, mister. Il Corriere dello Sport le chiede è rimasto deluso dal rendimento stagionale di Pedro? Contro la Lazio è tornato decisivo dopo un lungo periodo anonimo. Penso che Pedro ha iniziato molto bene la stagione e dopo ha avuto un altro problema fisico e dopo è stato difficile tornare alla migliaia condizione fisica, fisica non giocando troppo. Ma penso che nelle ultime partite ha dimostrato che sta ritornando a essere il Pedro che abbiamo visto all'inizio della stagione. Domanda del Romanista. Tra il derby e la doppia gara con lo Spezia nel girone d'andata abbiamo avuto la sensazione che si sia rotto qualcosa dentro la Roma. Lei ha qualcosa da rimproverarsi di quello che è successo in quei giorni? Io penso che la squadra non è stata rotta. Penso che arriviamo alla semifinale dell'Europa League in questi momenti e questa è una dimostrazione che la squadra non è stata rotta. Una squadra così non può arrivare alla semifinale, non può fare la prima parte che ha fatto con il Manchester, non può fare la partita che ha fatto qui con il Manchester. Penso che è stata una dimostrazione che la squadra ha continuato a essere ambiziosa. Domanda del tempo. Se dovesse scegliere una partita o un momento particolare come il più bello a Roma, quale direbbe? È difficile. Abbiamo avuto tante belle partite, come tutti hanno riconosciuto, la squadra era una squadra che giocava un calcio positivo, una squadra che giocava molto bene e penso che abbiamo avuto tante partite che abbiamo giocato bene, abbiamo praticato un buon calcio. È difficile dire una. Lanza le chiede, secondo lei c'è un insegnamento che lascia la squadra in questi due anni a Roma e per il quale crede che sarà ricordato? Penso che la necessità deve avere sempre equilibrio, non avere dramma quando la squadra ha una sconfitta. è vero che ha una pressione molto grande qui sulla squadra, ma penso che è importante lasciare questo sentimento che quando si perde non puoi avere dramma, deve avere sempre un equilibrio forte per una squadra che vuole sempre vincere. Rete Sport le chiede, tre cose che pensa di aver migliorato da quando è arrivato? Questo equilibrio, questa voglia di vincere, indipendentemente da che sia successo nella partita prima, è difficile dire tre cose, ma penso che è questo il principale equilibrio, non fare dramma quando dobbiamo reagire, penso che la squadra deve avere sempre questa voglia di vincere. Domanda di Teleradio Stereo. Si dice che chi conosce questa città e allena questa squadra ne rimanga stregato per sempre. Lei che cosa ne pensa? Come ho detto è stato per me un grande orgoglio essere allenatore della Roma, ho imparato molto qui. è chiaro per me che allenare la Roma è un motivo di grande orgoglio per qualche allenatore. Il rapporto con i tifosi che hanno sempre stato simpatici e gentili con me, le persone che hanno lavorato qui, ovviamente io parto, ma parto con la Roma, i tifosi, il club, le persone, il cuore. Domanda nostra, mister di Roma Radio. Lo Spezia è l'unica neopromossa che rimarrà in Serie A. Che cosa ha di diverso, secondo lei, rispetto a Crotone e Benevento e che partita si aspetta domani? Lo Spezia è una squadra che gioca molto buon calcio, è una squadra che è molto positiva. Voglio sempre giocare, voglio sempre avere l'iniziativa. Ha un grandissimo allenatore che per me avrà un futuro molto buono. Mi aspetta ovviamente una squadra difficile. Non è facile giocare contro la Spezia, ma come ho detto, abbiamo l'ambizione di vincere la partita. sarà una gara difficile, ma solo pensiamo a vincere questa partita e a vincere questi tre punti. Domanda di Roma TV. Mister Lei dopo il derby ha detto che Darboi ha cambiato la squadra. Qual è la qualità migliore di questo ragazzo? Il coraggio. Un ragazzo molto, molto coraggioso. Grazie. Grazie mille.